Questa settimana avremmo delle notizie certe che verranno rappresentate nel Consiglio Comunale di Giovedì e quanto dichiarato ai nostri microfoni dal sindaco della città di Agropoli Adamo Coppola in merito alla situazione dell'ospedale della cittadina agropolese e alla visita prevista da parte del commissario straordinario dell'Asla Salerno Mario Iervolino. Pertanto il primo cittadino ha espresso anche il rammarico dovuto all'assenza nell'ultima conferenza dei capigruppo dei consiglieri di opposizione Consolato Caccamo e Agostino Abate che hanno manifestato parere contrario alla convocazione del suddetto incontro considerato da parte loro come un inutile spediente per guadagnare tempo e come un'offesa alla verità dei fatti. Come eravamo rimasti il commissario Iervolino sta preparando un crono programma da proporci per darci contezza dell'andamento dei lavori nel nostro ospedale. Voi sapete che ormai il piano ospedaliero è nel ministero, tra qualche giorno sarà definitivamente approvato e lì finalmente c'è scritto del pronto soccorso. Quindi noi abbiamo finalmente messo per iscritto nel piano che ad Agropoli bisogna fare il pronto soccorso. Questo è il primo punto di partenza importante perché ora è l'obbligo dell'Asla seguire questa indicazione e nei tempi che ci dirà il commissario così come la legge oggi prevede che Agropoli sia un pronto soccorso Agropoli deve essere dotata di pronto soccorso. Quindi questa è la notizia che diamo ma per essere più concreti perché poi per arrivare a questo abbiamo dovuto aspettare tempo e ancora un po' di tempo ci vorrà per poterlo riaprire a 360 gradi e volevo questo incontro per chiarire bene i tempi di realizzazione di tutto. Per questo motivo abbiamo organizzato questo incontro spostato soltanto per motivi di carattere tecnico e quindi avremo questa settimana delle notizie certe che io potrò anche rappresentare nel Consiglio Comunale di giovedì. Detto questo mi rammarico però del fatto che nell'ultima conferenza di Capigruppo che era l'appuntamento d'incontro anche con le opposizioni per raccontare quello fatto e congordare insieme le azioni da fare che i consiglieri Caccamo e Abbate non sono venuti facendo prevenire una nota polemica rispetto a questo. Questo è un grave danno secondo me per noi perché noi abbiamo parlato di fare una battaglia uniti e quindi questa volontà di rompere il fronte non si capisce il motivo secondo me indebolisce tutti quindi faccio un appello a fare un passo indietro ai due consiglieri di opposizione perché non è questo il momento di fare politica non si fa secondo me politica sull'ospedale ma per quanto ci siano visioni contrastanti la cosa più importante in maniera unita è il fronte che discute con l'ASL e come ho sempre detto insieme avremmo deciso il percorso da seguire rispetto a ciò che l'ASL ci faceva sapere e non ho mai escluso anche eventualmente delle azioni più forti se il percorso che ci prospettavano non fosse quello che noi vogliamo e che la città aspetta quindi mi dispiace di questa volontà non so quali sono i motivi che spingono questi consiglieri a rompere questa compattezza che fino ad ora c'era stata faccio un appello a loro di ripensarci di fare un passo indietro e di mantenere insieme il ragionamento perché il Consiglio Comunale possa esprimersi all'unanimità rispetto a un problema che non deve dividere per colpa della politica ma la politica deve rimanere fuori il fronte deve rimanere compatto